Iniziamo la giornata con una ricca e immancabile soccer e continuiamo a visitare la città Alle 15.10 prendiamo il telo diretto a Vienna e arriviamo alla destinazione alle 17.30 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Iniziamo la giornata con un dolce e un tè alla menta e cominciamo l'esplorazione di Sissi e gli appartamenti imperiali dove però è arrivato a fare fotografie Grazie a tutti! Iniziamo la giornata dirigendoci allo Shombloon, ma prima facciamo colazione con una mega fetta di torta Iniziamo la visita nelle stanze dove però era invitato a fotografare dopodiché visitiamo lo zoo Questo è il modo di salutare, mi piace questo modo di salutare Grazie a tutti! Facciamo colazione con torta e tenere una bellissima pasticceria Ci dirigiamo in aeroporto dove prendiamo il volo verso l'Italia che segna la fine di questo bellissimo viaggio P.S. siamo arrivati con 20 minuti di anticipo Grazie a tutti! Grazie a tutti!